Il clan che stiamo per andare a vedere è l'Accademia MMI L'Accademia MMI che sta partecipando al COTS come clan a sé stante Questo è un passo estremamente importante per quei giocatori e che supporto appieno Perché gli permette di farsi esperienza quindi grandi così Pur essendo un'accademia riescono a giocare moltissime clan battle E stanno partecipando a questo torneo Quindi sanno che sarà difficile ma ce la stanno mettendo su tutta Vai MMI Assolutamente come ho detto prima è comunque tutta esperienza e se non si prova non si impara Allora dunque MMI Che probabilmente spesso chiamerò MMI Thunderer Yamato Des Moines Due Venezia Una Zao Un Moskva Un Ghiring e un Tering Si vede in qualche modo la zampina della scuola MMI rispetto a prima ma è comunque diverso il line up Vai con i WRG Va bene I WRG hanno una montana e una curfust Un Demoion e un Salem Goliath Venezia Mosca E poi due incrociatori Aiate e Grosvoi Ok io mi scuso ufficialmente con i spettatori per la voce anime che vi sia sicuro non era voluta E ho anche cambiato nave quindi non è quello Allora vediamo un po' I due DD della marina militare italiana si dividono in questo modo il Dering va verso il Cap D'A Accompagnato sicuramente dal Venezia di Captain Haric e dal Des Moines di Red Mardoc Il Giring di Big Cracker si va a posizionare verso C con il Venezia di Flavio e la Zao Il Mosca rischia di essere FK Vedi muove Noi avremo un problema non leggiamo la chat Però il Mosca di Super Pia E non lo sapremo No lo sapremo se chiudono la stand Forse No ok lo sappiamo Vedo una Iate Non mi ero mica reso conto della Iate No è partito il Mosca È partito Comunque si chiude la partita Quando l'ultimo esce dalla partita Ok Lato WRG hanno avuto uno spawn non ottimale perché gran parte delle navi si sono dovute incrociare e cambiare posizione Stanno facendo un push pesante su AB mandando 6 membri da quel lato Dal lato DC stanno mandando soltanto 3 navi Il Grosovoy, il Salem e il Venezia Il cui scopo sarà probabilmente bloccare il cap e restare contenitivi con il Salem che grazie alla cura riesce a incassare molto bene e il Venezia che è un ottimo flanker Il Des Moines dei WRG si sta posizionando per bloccare B Non lo potrà prendere ma impedirà gli incrociatori di sogliere avversari di prenderli E il Mosca sta prendendo una posizione stranissima E ha preso anche una botta dal Venezia La posizione del Mosca non solo è strana ma è pericolosissima Non credo resisterà molto lì No, no, sotto il fuoco del Venezia non tanto abbiamo già visto che ha perso quasi 10.000 di vita E sta arreccando adesso, sta già usando la prima cura È lontano dall'isola In un posto dove difficilmente potrà andare unspotted E appena il Des Moines e la Yamato andranno in posizione Ecco altri punti che se ne vanno Molto strano la scelta del Mosca in quella posizione Sì, sì, sì E a parte adesso il radar che becca Valerio Hero Dentro il Cap ma ormai è Tari Perché il Cap è conquistato Vediamo come l'Aiate contrasterà il Daring di Marina Militaria Italiana Il Goliath è interessante in flanking Quaggiù sull'isola in G Grande focus sul Daring Grande focus sul Daring Sì, stanno veramente facendo Stanno sparando tutti, anche l'Aiate Sì, sì E gli incrociatori americani dei VRG Il Salem e il Des Moines Hanno fatto una mossa estremamente aggressiva su B Mettendo entrambi la punta Il musetto, sì Quindi stanno conquistando B Questa è una mossa pericolosa Ma gli dà un grandissimo tiro Il Moskva Il Moskva Il Moskva lì è suicidio Eh sì, tra l'altro c'è Conce 69 Che guardate come lo vede bene Guardate come lo vede Lo sta proprio guardando Le sta guardando la pancia Le leak partono i colpi Partono i colpi Se MMA non vuole perdere male Deve capire velocemente MMA deve capire velocemente Chi deve I genci Il Moskva Non dura tanto lì Ok Vediamo un po' di siluoli Il Moskva è tuttora spottato No, il Moskva Non sopravvive alla prossima salva della Thunder Arrivano adesso i colpi La ricarica della Thunderer è mostruosa Si sta angolando nei confronti della Thunderer Vediamo se Arrivano anche i colpi del Venezia Questa volta non sono stati fortunati C'è la Curfus sta arrivando a cercare di Di dare il cambio al Moskva Ma ormai Grave errore Dimmi Grave errore dei VRG in C Che hanno fatto overcommittare il Venezia Il Venezia è spacciato Andrà giù Nel lato forte degli MMA Presto gli MMA scenderanno Prenderanno l'intero cap E chiuderanno i VRG in un angolo Flavio deve stare attento Con questo broadside Però si Decisamente Se il Venezia dei VRG ha pronti gli AP Ok non ce li aveva Ok Ha lavorato bene Flavio con lo Smoke E qui a questo punto hanno Veramente Fianco libero Vediamo come sfrutteranno questo vantaggio Il Moskva è ancora vivo comunque Regge con i denti È unspotted Ha colpi in volo verso di lui Ma è unspotted E non entrano Fiancata probabilmente O mare davanti O Hanno rimbalzato sulla fiancata L'Aiate intanto Sta cappando a Guarda quanto è bella sta nave Si luri Sul Daring Apre il fuoco E vediamo chi vince Tra due gambotte Per ora Alla meglio L'Aiate decisamente Arrivano i colpi del Venezia E ci mette lo zampino Vediamo se Riesce a smoccare in tempo Il Daring Ah e si luri in arrivo Si luri in arrivo si Riesce a evitarli Sta sacrificando tutte le navi Sta sacrificando HP Stanno perdendo un sacco di HP Si Sono in debito di Perdendo HP Si 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 In un ambiente competitivo Gli HP sono La tua moneta di scambio Perderne troppe Ti rende impossibile Continuare Inoltre Il Salem Ormai Non ha più Il fianco coperto in C Da almeno tre minuti E non si è riposizionato Questo Lo condannerà a breve Ormai probabilmente È tardi per spostarsi Non si può fare adesso Ma è troppo tardi Aspetta a cantare vittoria Troppo presto Però Perché il problema Di MMA Adesso è questo Hanno in push Sul fianco di A Che per carità Hanno molti HP Da gestire Mentre in realtà Il layout è praticamente morto Quindi potrà soltanto sputtare A questo punto Però Su questo fianco Stanno perdendo terreno Di là Non stanno spingendo Poi troppo Non stanno spingendo E gli serve Di prendere posizione Sì E adesso il Salem Sta scappando Nel frattempo Il Venezia Degli MMA Hanno perso la thunder Hanno perso la thunder MMI sta perdendo MMI sta perdendo MMI sta perdendo velocemente Molti HP Sul fianco di A Sì Sono riusciti adesso A eliminare il DD Però perdono Valerio Quindi scambio di DD Non ci guadagna niente Nessuno Forse ci perde MMI Perché Il problema di MMI Adesso è che hanno Soltanto il Demoin Posizionato Il Venezia Non è messo bene E la Yamato È in pieno mare E vediamo Se riescono A sfruttare Questa Posizione I WRG In C Gli MMA Stanno per stanare Il Grosavoj Mandandoci uno Zao A close distance Estremamente pericoloso Vediamo Le navi Le navi full vita Nel KDC Devono entrare Velocemente In gioco Sì Sennò La situazione In realtà Sembrava Più rosa Di quello che è Il Moskva Di Super Pio Si rischia Di trovarsi Un Grosavoj Oh no È spottato Perché sta Uh ok Forse riescono A lavorarsi Il Grosavoj Vediamo Se il Venezia Di Flavio No Si copre In tempo Il Grosavoj Ok Il Grosavoj È salvo Sta andando Verso un Moskva Eh sta andando Verso il Moskva Vediamo se Il DPM Del Moskva Sarà sufficiente A eliminare Un Grosavoj Che lo carica E vediamo se I WRG Vogliono rischiare Di perdere Il Grosavoj Non sembra Si stanno accontentando Di tenere Occupatoci Quindi MMI Non sta guadagnando punti Questo è un problema Per MMI Ma non solo Tutte le navi Full Vita In C Sono Molto strette Aspetta Aspetta Che c'è la Zao Che ha beccato Il Grosavoj Non sta smoccando Il Grosavoj Si sta prendendo colpi Anche perché tanto è Troppo vicino È un Moskva Esatto Non riescono Avere tiro Si è incastrato Si è incastrato E qui ci resta Sta smoccando adesso Ma il Grosavoj È Essenzialmente morto No Non è più avvistato Eh ma è morto Quasi Arrivano in Silu Si è scastrato Il Grosavoj Avvistato ora Si è scastrato Radar No non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa Si ce la fa No non ce la fa Se lo prende il Moskva Non ce la fa Diove lo sia successo All'audio Partono in Siluri Del Grosavoj Sul Moskva Che è fermo Eh Non lì Oddio è in retromarcia Quindi potrebbe No no è in avanti In avanti Sì sì nel senso Stava dando La La poppa Quindi Dovrebbe riuscire A Questa No No È una situazione Difficilissima Per l'Accademia MMI Che non è riuscita A sfruttare Le sue navi Full HP Che aveva in C E adesso Ha perso Completamente Il vantaggio In HP Che aveva Sì Le navi Non si sono allargate E ha perso la mappa E sono riuscite a prendere fuoco Lentamente E ha perso la mappa Va giù anche Il Venezia Eh Un ritardo In un fianco E Un ritardo in un fianco Gli ha compromesso Completamente La partita Il fianco di A Aveva retto Molto bene Gli aveva fatto guadagnare tempo Non sono riuscita A approfittarne Sì Esattamente Oh va giù La Zao In un colpo solo Il Mosca in C Non è riuscito A avere tiro E chiudere le navi Che erano in C Si è rimasto Nella zona nord E in realtà Forse dovevano scendere Tutti insieme Molto prima Più rapidamente Poteva anche dare bene Tenere il Mosca Però doveva prendere fuoco Doveva prendere tiro Non ha sparato Ha appena preso Una marea di cittadelle Dal Salem Restano in due No la partita A questo punto Purtroppo per gli italiani Non ce l'hanno fatta No Dov'è che stiamo portando Un po' sfiga Secondo me No No vabbè Le partite sono belle Mi piacerebbe Portare un po' di fortuna Ecco Questo Non mettiamo in giro voci Che poi Poi è difficile Non mi chiamo Marco Masini Facciamo così Dalla prossima partita Secondo me Vinceranno sempre Gli stranieri Imposto Facciamo così Ma Vediamo Ma Ok Cosa Va bene Perché Va bene Purtroppo Sono rimasti 30 secondi Da commentare C'è un po' da dire Sì No Sì Purtroppo Purtroppo C'è poco da dire Gravi errori D'entrambe le parti Bisogna dire Sì L'hanno giocato benissimo Hanno perso Moskva In modo molto gratuito Quello avrebbe potuto Costarli tantissimo Hanno perso Un Venezia su C In modo gratuito Hanno perso Hanno sacrificato Hanno sacrificato Tutti gli HP Del DD In maniera Sì Abbastanza Discutibile Hanno giocato Hanno Hanno spinto A testa bassa Hanno Preso Tantissime botte Ma gli MMI Non erano in posizione Per prendere tiro E punirli Sì Decisamente Se le navi Fossero state in posizione Per avere tiro Sugli avversari L'avanzata Dei VRG Sarebbe stata Una disfatta Totale Tantissime botte Grazie.